ciao a tutti oggi prepareremo il giornale alla vaniglia il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono panna fresca vanillina o aroma di vaniglia e latte condensato andiamo in via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla all'interno del boccale perziamo la panna chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza tempo a velocità 3 e mezzo fermiamo il bimbi la panna è ben montata adesso prendiamo una ciotola capiente e trasferiamo all'interno il latte condensato aggiungiamo l'essenza di vaniglia rimuoviamo la farfalla e aggiungiamo la panna adesso mettiamo la vanna a questo punto incorporiamo la panna con movimenti circolari dal basso verso l'alto dopo aver amalgamato per bene il composto trasferiamolo in congelatore per almeno 6 ore trascorse le 6 ore abbiamo uscito dal congelatore il gelato adesso lo lasceremo 5-10 minuti a temperatura ambiente prima di servirlo gelato alla vaniglia grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti